Un festival che travolge tutti. Insegui l'arte non è solo un contenitore di attività culturali, ma soprattutto un evento che contamina di conoscenza e bellezza posti e persone. Sono tanti gli appuntamenti di questa quarta edizione a Badolato, tra proiezioni e critiche cinematografiche, spettacoli e concerti, come quelli tenutisi nella splendida location del convento di Santa Maria degli Angeli, che ha ospitato il duo Gezza Muni con Fabrizio Mocata e Daniela Spalletta, e poi la performance di Paolo Sofia, leader dei Quarta Aumentata, in un racconto musicale, insieme a Carmelo Golaianni e Saverio Gullace. Stesso straordinario palcoscenico per la presentazione dei libri Un amore pizzicato di Giuseppe Vivace e le voci dell'eco di Daniela Rabbia. Io ho ritrovato in Un amore pizzicato, in questo mio lavoro, in questo romanzo breve, le mie radici. Perché io sono partito dalla Calabria, sono andato a Milano a lavorare, mi vergognavo del fatto che i miei amici, i miei paesani calabresi ballavano le tarantelle, suonano le tarantelle, danzavano, avevo una avversione perché pensavo che quella fosse una cosa di subcultura, tranne poi a Milano accorgermi quanto in quel mondo c'è la mia identità, c'erano le mie radici. Allora ho voluto rendere giustizia e chiedere scusa con questo lavoro, a questa cosa che avevo negato per anni, dentro la storia d'amore. Il mio protagonista di questo romanzo, le voci dell'eco, è un giovane che vuole far rinascere questa terra, vuole far sì che il fenomeno dello spopolamento dei borghi si argini attraverso l'opera di ognuno di noi. Lui ha solo 17 anni, dopo un primo momento in cui immagina di scappare da questa Calabria, decide di restare e realizza un'attività imprenditoriale per dare la possibilità al borgo di vivere ancora di più. Il romanzo è pensato in un paese di fantasia che si chiama Speriolo e Speriolo è una crassi tra la speranza e Tiriolo perché la speranza di questo giovane go inizialmente era caduta in un rivolo. Ma poi nel corso del romanzo, attraverso tre figure principali, la professoressa di lettere, Berto che è questo signore in copertina e Lucia un adolescente di cui si innamora, il ragazzo inizierà a sperare nuovamente, a credere nella vita e soprattutto a credere nella vita del paese.